47.000 corse, oltre 3 milioni di chilometri percorsi e 3,37 milioni di passeggeri trasportati. Sono questi i numeri del trasporto nell'isola servito alla Trenitalia nel 2017, ma sono i dati sulla qualità del servizio a definire i contorni dei viaggi sui treni della Sardegna. Oltre 90 treni su 100 puntuali, meno di un convoglio su 100 cancellato e la fotografia delle corse ferroviarie descrite nel report di Trenitalia sui primi 10 mesi del 2017. L'azienda fa sapere che la puntualità reale, che include i soli treni arrivati entro 5 minuti dall'orario previsto, è del 90,1%, mentre l'indice di regolarità, che misura le corse effettuate rispetto a quelle programmate, tocca il 99,3%. Migliore la prestazione dei treni in circolazione nelle ore di punta del mattino, nella fascia 6-10, e il 94,4% ad arrivare puntuale. La puntualità reale aumenta di ben 10,5 punti percentuali rispetto al 2014. Sono indici che, considerando cancellazioni e ritardi imputabili a Trenitalia, salgono al 99,6% come regolarità e 96,9% per puntualità. Ma sono anche gli utenti intervistati a giudicare positivamente il servizio di Trenitalia in Sardegna. Nell'ultima indagine chiusa a settembre, l'86,2% si è dichiarato soddisfatto del viaggio nel suo complesso, portando la media accumulata nei primi 10 mesi all'83,6%, con una crescita in due anni di 1,3 punti percentuali. Il gradimento maggiore si registra nella facilità di ottenimento, competenza e chiarezza delle informazioni ricevute nell'ambito della preparazione del viaggio e nella facilità e comodità di acquisto dell'abbonamento biglietto, dati in crescita rispetto a settembre 2016, osservate in Italia. Per quanto riguarda la permanenza a bordo, le percentuali migliori si registrano nell'aspetto, la cortesia e la professionalità del personale nella qualità delle informazioni sonore. Rispetto a settembre 2016, trend di maggiore crescita siano in climatizzazione, informazioni a bordo, offerta ferroviaria, pulizia e preparazione del viaggio.